Cari allievi e cari allievi, ben ritrovati. Come potete vedere c'è stato un cambio di location dovuto alle nuove disposizioni del governo. Oggi ci vediamo però per parlare della grande crisi finanziaria del 1873. Come abbiamo detto in una delle lezioni passate, nel 1870 la Prussia del cancelliere Bismarck e del re poi imperatore Guilamo I sconfigge la Francia nella battaglia di Sedan. La Prussia impone alla Francia il pagamento di un'enorme indennità di guerra. L'indennità di guerra è una specie di, possiamo chiamarla multa, che il vincitore impone al paese sconfitto accusandolo, in un certo senso, se questo è accaduto, di aver provocato la guerra. Contrariamente all'attese, però, la Francia paga l'enorme indennità di guerra assegnatagli dalla Prussia in soli tre anni. Nel 1873 la Francia ha finito di pagare l'indennità di guerra. Che cosa accade? Accade che l'ambito economico tedesco, in tre anni, viene inondato letteralmente di denaro. Le banche hanno un'enorme liquidità a disposizione e iniziano a concedere prestiti. E li concedono anche senza curarsi troppo della solidità delle garanzie di coloro che chiedono. Si forma in questo modo una enorme bolla finanziaria. Cos'è una bolla finanziaria? Per dirla in maniera semplice, possiamo dire che una bolla finanziaria è una sensazione diffusa di ricchezza, nel momento in cui però questa ricchezza, almeno nella misura in cui si percepisce, non c'è. Nel 1873, però, questa bolla finanziaria esplode e ci si confronta con la realtà. Per certi versi, la crisi finanziaria del 1873 è molto simile a quello che è accaduto nel 2008 e inizia più o meno nello stesso modo, vale a dire con il crollo dei titoli in borsa. Solo che a crollare è la borsa di Vienna. E si verifica una... si innesca un meccanismo a catena, per cui il crollo dei titoli alla borsa di Vienna genera un'ondata di panico negli investitori, i quali iniziano a voler vendere le proprie azioni. Le banche si trovano in crisi, in particolare le piccole banche, e per tutelarsi mettono in atto due azioni, e cioè interrompono la concessione di prestiti e iniziano a chiedere indietro i soldi già prestati. Questo manda in crisi le industrie più deboli e più piccole, che si trovano magari nell'impossibilità di restituire questi debiti, contratti con le banche. A questo punto le banche più piccole falliscono. Questo genera un'ulteriore ondata di panico, che porta ad un'ulteriore stretta sul credito, cioè le banche concedono ancora meno credito alle imprese, le imprese si trovano ancora più in difficoltà, quindi falliscono. Quindi si crea disoccupazione, quindi i consumi si riducono, e quindi le aziende vendono meno, e così entrano ancora più in crisi. Insomma, è un cosiddetto circolo vizioso. Questo circolo vizioso porterà alla chiusura di molti istituti bancari, molti istituti bancari, e di molte piccole aziende, e anche medie aziende. E quindi ha un aumento impressionante della disoccupazione. La crisi durerà circa vent'anni. In questo lasso di tempo, lo Stato, gli Stati anzi, non interverranno in maniera attiva a sostegno né delle banche né delle aziende. Perché? Perché viviamo in un'epoca in cui è molto forte la fede nel liberismo. Che cos'è il liberismo? Il liberismo è quella dottrina economica che vuole lo Stato al di fuori dell'economia, dell'ambito economico. Cioè, lo Stato non deve intervenire nel mercato, perché il mercato si regola da solo. Dalla grande crisi finanziaria, iniziata con il crollo della Borsa di Vienna nel 1873, si uscirà soltanto venti e più anni dopo. Cioè, ventitré anni dopo, per la precisione. E cioè nel 1896. La crisi ebbe molte conseguenze. La prima fu che si ebbe una concentrazione, sia da un punto di vista finanziario, che da un punto di vista industriale. Cosa voglio dire? Le aziende più grandi iniziarono ad assorbire quelle più piccole, che si trovavano in difficoltà. In questo modo ci fu una diminuzione del numero totale di industrie, perché le più piccole vennero assorbite dalle più grandi. Allo stesso modo, le banche più piccole, gli istituti di credito più piccoli, vennero assorbiti da quelli più grandi e robusti, che riuscirono a superare la crisi. Abbiamo quindi una concentrazione sia della produzione che del credito. E ci avviciniamo a quello che può essere definita una situazione di oligopolio. Cos'è l'oligopolio? L'oligopolio è quando la produzione o il credito sono in mano a pochi soggetti. Oltre a questo, la crisi spinse anche verso il colonialismo. Abbiamo la ricerca di nuovi mercati per vendere i prodotti, e quindi dare respiro all'economia, e nuovi giacimenti, nuove risorse di materie prime a basso costo. Vedremo in una prossima lezione, proprio nello specifico, questa spinta al neocolonialismo. Lo Stato che cosa fa in tutto questo? Lo Stato si limita a proteggere il mercato interno. E come lo protegge? Lo protegge con il passaggio da un'economia di libero scambio, tra gli Stati, a un'economia di tipo protezionista. Vengono messi, cioè, dei dazzi doganali. Cos'è un dazio doganale? Un dazio doganale è una tassa che viene imposta sulle merci che vengono importate in un paese. Qual è la funzione del dazio? La funzione del dazio è quello di scoraggiare il consumatore dall'acquisto del bene tassato, che è un bene prodotto in un altro paese. Questo perché? Per favorire tutte quelle industrie che producono quello stesso bene all'interno della nazione. I dazzi doganali sono uno strumento in uso ancora oggi. Pensate solo alla guerra doganale che si sta sviluppando tra Stati Uniti e Cina. ma anche l'Europa ne fa largo uso non all'interno del mercato comune europeo, non all'interno dell'Unione Europea, ma verso i paesi esterni all'Unione. vedremo in una successiva lezione, particolarmente centrata sull'Italia, l'effetto di questi dazzi doganali. Bene, la lezione finisce qui. Vi auguro una buona giornata e un buono studio.